Ecco, noi siamo nella seconda domenica di Quaresima e tradizionalmente è la domenica dedicata alla trasfigurazione. Perché è questo il posto di questo testo, liturgicamente parlando? Perché dovendo iniziare il cammino della penitenza, della trasformazione, dobbiamo vedere lo scopo. Lo scopo è la trasfigurazione. Ovvero sia, in questo racconto, di questo momento di intimità di Gesù con i suoi tre discepoli più vicini, che restano con lui nei momenti fondamentali della sua missione, lui mostra la sua bellezza nascosta, cioè mostra la sua identità, mostra di essere luce, mostra di essere molto più che un semplice uomo. Ecco, questa cosa qui non è finalizzata semplicemente a una contemplazione di Cristo che non è roba piccola, è roba grossa. Attraverso la luce della prima lettura noi capiamo di che cosa stiamo parlando. Perché la prima lettura è niente ma poco di meno che la chiamata di Abramo. E' il momento in cui Dio chiama questo uomo che ha perso il padre, pur essendo lui stesso anziano, e che in un momento di stasi della sua storia non sa se andare avanti o indietro, non sa se proseguire il viaggio del padre che era verso Canaan, o se tornare a Ur de Caldeita, dove era partito insieme al padre, si trova in Carran, a metà della strada, in un punto che non si va né avanti né indietro, e Dio gli si manifesta chiamandolo alla fede. E lo chiama a che cosa? Qual è il punto di contatto? Perché questa è la prima lettura nella Domenica della trasfigurazione? La trasfigurazione è il cambio di forma, la trasformazione, metamorfè, cioè dice il greco, ovvero sia la morfè, la forma, l'aspetto, viene cambiato. Nel testo della chiamata di Abramo, noi vediamo che è esattamente il piano di Dio sull'uomo. Perché? Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò, perché? Tutto questo è punto di partenza. Farò di te una grande nazione, ti benedirò, renderò grande il tuo nome, e quindi cambierò la tua identità. Farò di te, farò per te qualcosa. Questo è il nocciolo di ogni chiamata. Quando Gesù chiama Pietro e Andrea e Giovanni e Giacomo, seguitemi, farò di voi pescatori di uomini. È un'opera di Dio. Ciò che noi vediamo nella chiamata di Abramo è ciò che Dio farà in Abramo, non quello che Abramo sarà tanto bravo da fare. No. E quello che vediamo nel Vangelo della trasfigurazione è ciò che Dio, nel Signore Gesù Cristo, nella seconda persona della Santissima Trinità, farà dell'uomo. Nella seconda persona della Santissima Trinità si darà questa straordinaria esperienza, che la nostra natura umana sarà cambiata in luce, sarà trasfigurata. Lì non è semplicemente il corpo di Cristo che cambia, è il corpo che Lui ha preso da noi, che ha preso dalla Beata Vergine Maria. È la nostra realtà, per cui quello che noi vediamo in Lui è ciò a cui siamo chiamati noi in Lui. Cioè noi siamo chiamati a vivere che cosa? La trasformazione in luce. Per mezzo di questa esperienza, qui è patentemente un'esperienza di intimità, di preghiera, di contatto con la parola di Dio, perché vengono citati Mosè ed Elia, che sono la legge e i profeti. Viene annunziato il rapporto con il Padre, questo è il figlio mio, l'amato, in Lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo, il rapporto con il Padre per mezzo del figlio, tutto questo porta al cambiamento della nostra natura. Noi non ci avviciniamo al Signore Gesù Cristo per rimanere come siamo. Noi non possiamo stare davanti a Lui, non possiamo vivere l'esperienza della preghiera, dell'incontro con la parola di Dio, dell'incontro con la Sua opera in noi, che è preclaramente data nei sacramenti e in tutta la vita che provvidenzialmente ci dona all'interno della Chiesa, se non per essere trasfigurati. Dirà San Paolo, di gloria in gloria siamo trasfigurati a immagine di Cristo. Allora noi siamo chiamati a vivere questa cosa qua. Perché questa parola è la parola della guarisima? Perché questo è il tempo della trasformazione, questo è il tempo della trasfigurazione, che in realtà, se guardiamo un pochino a partire già da Abramo, Abramo crede di essere un uomo vecchio, senza una terra e senza discendenza. Non sa che in Dio queste cose sono molto diverse, che lui in Dio è proprio un altro uomo, è una benedizione. E così, quando Pietro, Giovanni e Giacomo vedono Gesù trasfigurato, stanno scoprendo cosa c'è nascosto nella nostra natura umana, cosa c'è nascosto in noi. Attraverso questa domenica della trasfigurazione, attraverso il cammino quaresimale, noi siamo chiamati a scoprire lo straordinario nascosto in noi. cosa c'è di bello in noi attraverso il digiuno, la preghiera, l'elemosina. Noi siamo chiamati a fare un cammino di scoperta della luce latente in tutti noi, perché noi, in Dio, siamo dotati di una bellezza sconvolgente, splendente. Le nostre vesti, i nostri ruoli, il nostro essere in questo mondo diventa luce, diventa essere bellezza, gioia, pace. Questo però ha un segreto. Il segreto che Abramo scopre in maniera embrionale nell'Antico Testamento è ciò che lui è per il suo Dio, questo Dio che si manifesta a lui e che si manifesta come potente per dargli discendenza, terra e soprattutto una identità al suo cospetto, una vita da eletto in Gesù Cristo, nel Nuovo Testamento, in quella che è la nostra condizione, noi siamo chiamati, per mezzo che l'incontro con il Signore Gesù, a diventare figli amati, a vivere, a ragionare da figli amati. Proprio ciò che la domenica precedente è stato messo in discussione, la nostra identità di figli, e il maligno tentava Cristo per essere figlio per via della disobbedienza, come una identità rubata. Qui diventa qualcosa di intimo, di bello. Questo è figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Che cosa può fare l'amore di Dio dentro il nostro cuore? Quale bellezza può tirare fuori da un uomo, da una donna, l'incontro con l'amore, tenero del Padre Celeste? Noi possiamo essere parte del corpo di Cristo, eco della sua bellezza, manifestazione della sua opera in noi. Se l'amore di Dio entra, il nostro cuore entra per l'intimità con Cristo, per il rapporto con le scritture, per lo stare al suo cospetto, per tutta l'opera che Dio fa in noi, come tutti questi dati che vengono enunciati in questo testo qui, bene, noi sfoderiamo la nostra bellezza. Guardiamo Cristo per capire che cosa può fare Dio nella natura umana, cosa di bello può tirare fuori da noi. Non rassegniamoci a ciò che siamo da noi stessi, secondo le nostre povere forze. Pensiamo a questa cosa straordinaria a cui siamo chiamati, essere figli di Dio e lasciar Dio operare nella nostra natura, impastandosi con la nostra povertà. La potenza di Dio fa di noi delle opere d'arte.